Dichiarata sana e rispedita nel mondo. Diagnosi finale, borderline, recuperata. Che cosa voglia dire ancora non l'ho capito? Sono mai stata matta? Forse sì. O forse è matta la vita. Eh, io mi ricordo di te. Ciao. Dove ti devo portare? Eh, 17, Burlingham. Agli ordini. La follia non è essere a pezzi o custodire uno scuro segreto. La follia siete voi, o io, amplificati. Se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto. Se avete mai desiderato di poter restare bambini in eterno. Non erano perfette, ma erano amiche mie. Negli anni 70 quasi tutte erano uscite e vivevano la loro vita. Alcune le ho riviste, altre no, mai più. Ma non c'è un giorno in cui il mio cuore non le ritrovi.